Il Ghana sarà main partner di Blue Zealand 2015. Oggi qui al distretto è importante riunione con una delegazione del Ghana, con il consolato del Ghana in Sicilia rappresentato dall'avvocato Francesco Campagna e dal rappresentante, dallo stilista ganese Sifan Martey della Smack Clothing che insieme a Corai, un'azienda al femminile di Palermo, con questo progetto presenteranno a Blue Zealand un importante evento di moda. Ecco, Presidente Tumbiolo, quindi si ribadisce questo importante connubio nell'ambito di Blue Zealand fra il Ghana e il distretto della pesca, non solo food? No, non solo food, non solo alimentazione, non solo cibo. Blue Zealand è anche un luogo di incontro delle culture, delle tradizioni e delle economie, dei paesi che vi fanno parte. Il Ghana quest'anno è main partner, ringrazio molto il console Campagna che qui rappresenta il governo ganese che sarà presente ai massimi livelli e in particolare stiamo lavorando per fare sì che possano essere presentate alcune produzioni tipiche legate alla moda, al fashion e saranno anche occasioni per allietare le serate dei tanti visitatori e soprattutto per promuovere gli scambi economici e commerciali fra i nostri paesi. Console Francesco Campagna, un'occasione importante, si ribadisce la partnership fra il Ghana e il distretto della pesca e il vostro consolato è impegnato in questo ormai da qualche anno, già protagonisti nella scorsa edizione di Blue Zealand e quest'anno main partner. Sì, sono molto contento del lavoro che sta portando avanti e dall'entusiasmo con cui il governo del Ghana, nella persona dell'ambasciatore Molle Animado, nella persona del ministro della pesca, ha accolto l'invito del distretto a stringere in maniera sempre più efficace il rapporto tra il paese e il distretto. Durante Blue Zealand 2015 sarà sottoscritto il protocollo tra il distretto della pesca e il ministro della pesca del Ghana, proprio come segno della volontà di andare avanti con la serietà di chi è consapevole delle risorse, della possibilità di crescere insieme nel vantaggio reciproco. Quest'anno poi, come ha detto il Presidente, la possibilità di estendere la conoscenza, quello che non è soltanto il profilo del food, dell'agricoltura, ma anche i profili culturali del Ghana, anche attraverso degli sviluppi che oggi guardano a settori che sono sempre stati tradizionalmente molto forti, come appunto quello del tessile, ma che oggi anche attraverso l'intervento di nuovi, di giovani imprenditori, sta cercando uno spazio, un ruolo nuovo. Sono molto contento del fatto che si è creata questa connessione, grazie all'opportunità offerta dal distretto e da questo ambiente favorevole che si è creato, a mettere in connessione delle realtà siciliane, in questo caso appunto legate anche al mondo della moda, del fashion, con delle realtà ganesi, per creare un percorso nuovo, proprio come simbolo anche di questa capacità che sebbene orientata, sebbene supportata, riesce a produrre novità, a fare innovazione e aprire nuove strade di sviluppo. Sif e Marti è lo stilista ganese appunto che presenterà la sua collezione tessuti, ma non solo, quindi anche gioielli, accessori del suo paese, il Ghana. Quale emozione nel poter presentare anche questo interessante aspetto del territorio ganese? Come senti a presentare il vostro lavoro a Sicilia durante il Brasileo? Sì, mi sento molto bello di presentare il mio lavoro qui e sono molto felice di conoscere tutti qui, sono molto felice di conoscere il Consulatore, il Presidente di questa fissura, e sono molto felice di aver guardato questo progetto e farlo in un grande stile. E' molto contento appunto di poter avere questa possibilità, di aver avuto questo appoggio del distretto per poter presentare durante questo importante evento il suo lavoro, la sua opera. E quindi arrivederci a Blue Zealand 2015, no Stephen? So goodbye to Blue Zealand 2015, in October? Ok, I'll say goodbye and then I'll meet you in 2015, October, so you see me. Cheers, ok, bye. Siamo con Susanna Cristina, della cooperativa Corai, una cooperativa al femminile che collabora con il Ghana e quest'anno una grossa novità, appunto una bella manifestazione di fashion. Sì, noi della società Corai siamo molto grati al distretto perché l'anno scorso abbiamo potuto avere l'opportunità di presentare il progetto KxK Corai per Kente che mira a valorizzare il tessuto Kente, un tessuto tradizionale ganese e a esaltare la connessione tra l'artigianalità del Ghana e le eccellenze manifatturiere siciliane e anche di designer siciliani. Quest'anno presenteremo l'avvio di una cooperazione di questa filiera in rete tramite una cooperazione proprio con lo stilista Stephen Martin e altri partner che stanno contribuendo ad allargare questo progetto.